Si fa in salita la strada di Virtus Molfetta verso la Serie B. La squadra allenata dal duo De Bellis-Delicarri soccombe in casa di Palacanestro Salerno per 78-64 in gara 1 della finale play-off di Cigold, che mette in palio l'accesso agli spareggi nazionali per salire in Serie B. Un KO che complica il discorso promozione soprattutto per ragioni di scarto, dato che la serie è articolata su due soli incontri di andata e ritorno senza possibilità di ricorso alla bella e con la necessità di ribaltare il divario nella seconda e decisiva sfida. La gara si mette subito in salita per Virtus Molfetta, costretta a rincorrere già alla fine del primo quarto concluso sul 21-12 per i padroni di casa. Le cose vanno meglio nel secondo parziale, che vede gli ospiti prendere le misure agli avversari ed andare al riposo con due soli punti da rimontare, 29-27 per Salerno. L'equilibrio perdura per gran parte del terzo segmento, ma nei due minuti finali i campani allungano ancora, chiudendo la frazione con 10 lunghezze di vantaggio, 57-47. Un solco che la Virtus non riesce più a colmare soffrendo gli avversari sino al meno 18 e riuscendo tuttavia a chiudere sul 78-64 con una tripla di comollo a fil di sirena. Ci vorrà insomma un altro Molfetta, ci vorrà la cosiddetta partita perfetta per giocarsi al meglio le residue possibilità di promozione in Serie B. Appuntamento per domenica prossima al Palapoli per provare a ribaltare la situazione e vincere l'incontro almeno con 15 punti di scarto, l'unico modo rimasto alla Virtus per continuare a concorrere per il salto di categoria.